Non siamo in vecchia, non siamo in logica di mano. Quasi, quasi! Allora, vogliamo dire che questa domenica al Corbetto c'è una sparata del 2 giugno e invitiamo tutti a partecipare a una giornata antimilitarista con... e invitiamo tutti anche a sparare, tra l'altro, antimilitaristi, ma a sparare, a quelli giusti. Antimilitaristi! Allora, dov'è il nostro per Pasca? Pasca! Pasca, veni a fare un intervento così ti menano un po', io... Vabbè, allora, una giornata antimilitarista, ed è in un quartiere popolare di questa cazzo di città, Corbetto. C'è gente che gira col piccone, borghese che è rimanato a casa, porco Dio. Pidiamoci i quartieri periferici di questa città dove ci siamo tutti i giorni e facciamo sentire che siamo noi, quelli che hanno un peso, e noi non c'è altri moni che arrivano dopo. Comunque, il 2 giugno c'è una fantastica giornata antimilitarista. Chi suona, chi non suona, toh, ho fatto un presentatore di... Allora, a parte il discorso del suonare, l'importante della giornata è ricordare che noi siamo antimilitaristi. Allora, ci sarà... Allora, ci sarà... Contrasto, estere, louchers, casamate, la cosa, la gorgia. Se volete sapere qualcosa di più, guardate i volanti di giro perché adesso... chiedetelo a fare... Insomma, se lo vedi che lo vedi in cornetto, siete un bracco di tassi di tarda. Alle 2 del pomeriggio. Alle 2 del pomeriggio. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. qua. qua c'è spazio. , a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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 a tutti.